Ciao ragazzi, allora voglio dire anch'io due paroline sulle vergognose dichiarazioni rilasciate ieri sera dopo la partita a Roma-Inter del piangina Antonio Conte Ti sei dimostrato una merda, sei un piangina, continuo a fare figure di merda perché è quello che farai anche gli anni prossimi Hai venduto l'anima al diavolo, come capitano ex della Juventus e ex allenatore della Juventus non mi rappresenti più E io dico solo una cosa, tanto se è un infame, un pagliaccio, un prescritto di merda e del classico comportamento da prescritto Io da tifoso, io adesso parlo a favore di Agnelli, toglietegli la stella dallo stadium perché il nome Antonio Conte è una presa per il culo a noi tifosi Non merita il suo nome, non merita di stare allo stadium, levategli la stella, levategli la stella perché un infame, un prescritto, una merda Che si lamenta perché non vince e continua a sparare merda dove hai mangiato in passato e dove hai giocato in passato Ti devi solo vergognare, sei una merda, vattene a fanculo e tanto hai venduto l'anima al diavolo perché all'interno non vincerei nulla Nulla, e io ci godo, ci godo brutta merda perdente E questo, volevo dimostrare che il campionato di Serie A è un campionato mediocre, mediocre Questa è la scarsità del campionato italiano Un saluto ragazzi, mettete un like, commentate, iscrivetevi al canale, condividete e noi ci vediamo al prossimo video Sei una merda, infame le cese, sei una merda Grazie